Rimaniamo in tema caldo, però un caldo pacifico. Sentiamo la rabbia degli operai Dexion a Cinto Camaggiore. Allora, siamo qui tutti noi i lavoratori della Dexion. Come vedete, insomma, sono oltre dieci giorni che i lavoratori fanno un presidio davanti alla fabbrica. Il motivo qual è? Che il giorno 4 novembre, quando abbiamo chiesto un incontro all'azienda in provincia di Venezia, assieme all'assessore provinciale Paolino Danna, l'azienda ci ha confermato, purtroppo, il fatto che ha intenzione, dalla data odierna, cioè dal 4 novembre, a smantellare l'azienda. Da quel giorno lì abbiamo iniziato un presidio che è iniziato quel giorno lì e andrà avanti finché non avremo delle risposte alternative a quello che ci hanno detto loro. Per loro la Dexion è finita, non esiste più. Ci siamo attività e la cosa è veramente assurda, anche perché, insomma, la Dexion è un'azienda che fa parte di una multinazionale americana, la quale, quando è venuta qua a acquistare l'azienda, aveva promesso delle cose. L'anno scorso stesso aveva promesso che avrebbe continuato ad investire sulla fabbrica. Cinto, senza la Dexion, non so che futuro può avere. Qua noi siamo su un territorio dell'evento orientale, con un territorio molto colpito dalla crisi. Probabilmente, insomma, accade quello che accade in tanti posti in Italia, che i multinazionali americani vengono qua, acquistano il mercato, poi una volta acquistato il mercato prendono, chiudono e vanno da un'altra parte. Noi oggi non stiamo parlando di un'azienda in crisi, noi parliamo di un'azienda che, bene o male, è consolidata. Un'azienda che già l'anno scorso ci aveva raccontato delle bale. L'anno scorso l'azienda ha ristrutturato, ha mandato a casa 21 lavoratori. Garantendoci una cosa però, che questa scelta qua, che per l'ora era solamente un taglio di un ramo secco, avrebbe portato un beneficio all'azienda. Avrebbe continuato ad investire sul freddo, la refrigerazione, perché qua si fanno frigoriferi. E' la cosa, diciamo, che è anche andata in porto, nel senso che nell'ultimo anno ci sono stati fatti tanti investimenti, linee nuove. Abbiamo un prodotto nuovo, che tra l'altro è anche un prodotto innovativo rispetto alla nostra concorrenza. La battaglia della Dexion è una battaglia che va fatta da tutta quanta il territorio del vento orientale. Perché non può passare il fatto che assistiamo in occhi al fatto che le multinazionali vengano qua, si prendono il mercato e poi scappano via. Il vento orientale è una zona colpita tanto dalla crisi, la nuova Pansac, il lignificio, ACO e adesso ne arriveranno anche altri. Se non ci mettiamo di traverso, se non facciamo qualcosa, io penso che veramente avremo un problema sociale grave nel nostro territorio. Ecco perché la battaglia della Dexion deve essere la battaglia di tutta quanta la politica e la cittadinanza del vento orientale. Già qui abbiamo 65 famiglie in strada e la cosa andrà avanti. Ecco perché noi chiediamo veramente alla politica tutta, dal centro-sinistra al centro-destra, che ci dia una mano. Perché noi ribadiamo un concetto che se l'azienda ha intenzione di presentarsi a Roma confermandoci il fatto che chiuderanno l'azienda, beh insomma sta cosa qua continuerà, anzi sarà sempre di più sta cosa qua. Continueranno sempre con più forze perché è inaccettabile quello che sta accadendo. Abbiamo bisogno che la politica tutta si unisca e cerca di combattere questa ingiustizia in mani qua. Perché altrimenti il territorio del vento orientale veramente ne uscirà veramente frantumato da questa maledetta crisi.